Buongiorno, mi dispiace ma la Camera del Lavoro oggi è chiusa. Ho sconvenuto, il dottor Navarra vorrebbe iscriversi alla Camera del Lavoro. Mi dispiace, non possiamo, non la posso iscrivere a Bossia. Lazzotto, guarda che quando ho fatto io la guerra tu ancora dovevi nascere. Sono stato sotto tenente, sono stato sotto ufficiale. Che cos'altro ti serve? Guardi, a me non serve niente, il fatto è che noi mafiosi, qui, non ne accettiamo. Uè ma che mince ti passa per la testa? Mincio! Maffioso, l'ho già sentito questa parola. Per voi comunista, quando un cristiano non vi piace, è subito un mafioso. Sentami qua a Rezzotto, non ti credere di fare il partigiano in montagna, capito? Che qui a Corleone siamo. Ma quant'ignoranza! Ho giocato! Ho giocato! Ho giocato! Ho giocato! Ho giocato!